Ciao ragazzi! Oggi facciamo un scherzo con mio zio, con la mia amica, con questo cosino e con questa spada. Si fa così e così. Cominciamo! Ok, io prendo le mie sciabatte e facciamo questo scherzo. E forse prendo un'altra sciabatta perché questa è sporca. Questa qua. Aspetta che faccio così. Questa qua. Cioè, è rosa ma non c'è un'altra. No, forse.